Buonasera a tutti, sono Edoardo Franco e sono un presentatore del Polynesia Ghost Talent. Ma non sono da solo questa sera, c'è anche la mia presentatrice che si chiama Arianna Paro. Buonasera a tutti, siamo qua molto agitati, con noi come tre anni a questa parte ci sarà anche un altro presentatore, Ghi. Quest'anno l'offerta che verrà fatta all'entrata andrà ai bambini del Policlinico di San Matteo di Pavia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E adesso facciamo tutti un bella merda merda Attenzione, uno, due, tre Merda 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 E adesso facciamo tutti un bella merda Volevamo fare un saluto importante ai bimbi del San Matteo di Pavia Ciao bimbi Ciao bimbi, vi vogliamo bene Ciao 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 Andiamo per poi perderci nel tempo